Guido Guidesi, il governo RETA chiede la fiducia sulla legge di stabilità, lei come commenta? Commentiamo, era l'unica soluzione che avevano per sperare che questa legge di stabilità, fatta malissimo, della quale probabilmente non è contenta neanche una parte della maggioranza, passasse in maniera tranquilla e beata, senza nessuna discussione. Una legge di stabilità che prevede tantissime marchette, soprattutto a favore del Sud. Ha messo la fiducia proprio per questo, noi avevamo chiesto di non mettere la fiducia, con un mio intervento in aula, avevamo dato la disponibilità a ritirare i nostri emendamenti affinché la legge di stabilità si potesse pulire da tutte le marchette che sono state messe pro-Sud, noi ci auguravamo si potesse fare questo, loro hanno deciso di andare avanti confermando ancora una volta che questo è il governo solo di una parte del Paese, cioè del Sud. In piazza manifestano i forconi e questa legge di stabilità non gli aiuta? Ma questa legge di stabilità non aiuta nessuno, se non pochi che, ripeto, abitano al Sud, c'è una stabilizzazione ancora di tanto personale pubblico e qua bisogna capire quanto aumenterà la spesa pubblica nei prossimi anni grazie a questo intervento, ma soprattutto ci sono interventi a spot, interventi specifici, qui si passa dal finanziamento delle grotte al Sud, dal finanziamento della navigazione nello stretto di Messina, al finanziamento del Teatro San Carlo di Napoli, eccetera, eccetera, eccetera. Questa legge di stabilità è un marchettificio, una cosa imbarazzante. In più ci aggiungiamo che l'ultima trovata è stata quella di far risparmiare all'amico De Benedetti, all'amico del Partito Democratico De Benedetti, ben 20 milioni di euro, evitandogli di fargli pagare gli oneri di urbanizzazione ai comuni dove si sono insediate le sue centrali.